Se il cavallo fu importante per sviluppare la comunicazione, fu ancora più importante nelle invasioni e nelle battaglie. Un guerriero a piedi armato di tutto punto è di per sé già abbastanza spaventoso, ma se monta a cavallo, diviene indubbiamente un avversario terrificante. Molte delle armi trovate nelle tombe Kurgan sono quelle che si potevano maneggiare sulla sella, la lancia, lo stiletto e soprattutto l'arco e la faretra con le frecce. Il cavallo consentiva di diffondere a grandi distanze lo stile di vita del guerriero. Il guerriero montava sulla sella e poteva fare improvvise scorribande per le pianure, attaccare e poi tornare alle steppe. Il modello è simile a quello che vediamo in epoche storiche, quando gruppi come gli sciti, i sarmati, gli uni e più tardi i mongoli devastarono le steppe evidentemente proprio come fecero i Kurgan in queste epoche preistoriche. Benché i pastori Kurgan fossero di un livello culturale inferiore alle culture del vicino oriente dell'Europa, a loro contemporanee, il loro uso del cavallo avrebbe condizionato la civilizzazione occidentale in modo tale da durare fino ai nostri giorni. Con il cavallo questi popoli bellicosi avrebbero diffuso il loro stile di vita lungo le grandi regioni dell'Europa e dell'Asia. Il cavallo aveva già raggiunto uno status cultuale durante il periodo 5.000-4.500 a.C. L'importanza rituale del cavallo sarebbe continuata per diversi millenni nella cultura Kurgan e in quelle successive. Il pantheon degli dei Kurgan rispecchiato nella concreta tradizione sociale Kurgan è il pantheon dominato da dei guerrieri che vivevano in cielo ed erano metafore del cielo splendente e del tuono. Come i capi guerrieri gli dei Kurgan cavalcavano su veloci destrieri. Le dè nella mitologia di questo popolo erano semplicemente le amanti e le mogli degli dei. Esse non erano le creatrici partenogenetiche della religione antico-europea che creavano da se stesse la nuova vita all'interno del loro stesso corpo e lo facevano da sole senza bisogno di essere inseminate dall'esterno. Nella religione Kurgan la forza femminile non è una forza divina universale. L'enfasi antico-europea sul corpo femminile, sulle sue funzioni generative e sul simbolismo ciclico-lunare sono assenti nella religione Kurgan. La fertilità delle idee indoeuropee e anche della terra stessa deve essere stimolata dal dio del tuono. Una delle conseguenze dell'esistenza pastorale seminomade e della mobilità trasmessa dal cavallo è una carenza del legame con la terra. Da questo punto di vista le culture Kurgan sono completamente diverse da quelle sedentarie dell'Europa antica che per generazioni si radicavano in un unico luogo e traevano il loro sostentamento dal suolo. Non conosciamo né templi né consistenti insediamenti permanenti tra i Kurgan. Quando le culture Kurgan si diffusero esse portarono con sé la loro struttura sociale, la loro religione e il loro stile di vita, il lontane aree dell'Europa e dell'Asia. La diffusione della cultura Kurgan, la prima ondata. Tra il VI e il V millennio a.C. la steppa si stava inaridendo. I pastori furono richiamati dall'ambiente lussureggiante dell'Europa danubiana e dei Balcani. Quando i Kurgan si espansero verso ovest e giunsero al conflitto con gli antichi europei, fu quasi inevitabile che i primi avessero la meglio, surclassando i coltivatori dell'antica Europa con i loro armamenti superiori e con la mobilità garantita dal cavallo. Dal punto iniziale di contatto con la cultura antica europea del nord del Mar Nero, i popoli Kurgan si mossero verso sud-ovest, lungo il corridoio di terra nel bacino del Danubio, nelle attuali Romania e Bulgaria. Da qui essi migrarono fino alla valle del Danubio e poi ancora verso l'Europa centrale. In ognuna di queste aree in cui comparvero tombe Kurgan, gli insediamenti antiche europei, molti dei quali occupati per più di mille anni, furono abbandonati. Nessuno di questi gruppi culturali fu un'entità politica organizzata nel senso moderno. Gli antichi europei erano uniti da tradizioni religiose e artistiche e da estese reti commerciali, ma non avevano in comune un'entità politica centrale. Analogamente i pastori Kurgan di questo periodo vivevano in piccole bande, probabilmente con sanguine, e la loro usurpazione dell'antica Europa non può essere pensata come un'invasione di massa organizzata del tipo che conosciamo dall'epoca storica. Ma, come la storia ha mostrato, piccoli gruppi di guerrieri ben armati possono facilmente sottomettere un grande gruppo di popoli scarsamente difesi e mutare il corso della storia. Gli scavi di alcuni siti dell'Europa antica mostrano livelli bruciati che parlano di una vera e propria distruzione e di razzia violenta da parte dei nuovi arrivati. Le prime conquiste dei Kurgan ai danni dei coltivatori europei probabilmente furono fin da subito terribili, aggressive e inarrestabili. I primi testi in lingua europea provenienti da aree distanti come l'Irlanda e l'India parlano di miti incentrati su guerrieri, eroi, colti da una furia paragonabile a quella di bestie selvatiche come i lupi. La ricorrenza con la quale compaiono descrizioni di questo tipo nel tempo come nello spazio è indice del fatto che una simile caratteristica, la furia guerriera, occupasse un ruolo culturale cruciale già da prima, forse con i popoli Kurgan che misero a ferro e a fuoco l'Europa antica. Un esempio drammatico di razzia violenta giunge dagli scavi in corso presso Iunazite nella traccia bulgara. L'ultimo strato di questo villaggio consisteva in case rettangolari disposte su strade e costruite l'una accanto all'altra. Tutte queste case erano state ridotte in macerie, distrutte e poi bruciate. All'interno delle case bruciate vi sono chiare tracce di un evidente massacro. Scheletri di donne, uomini e bambini, la maggior parte dei quali in posizioni innaturali, stesi sul ventre a faccia in giù con le mani levate. Alcuni teschi erano frantumati. Al di sotto delle rovine si conservarono le ceramiche, le statuette di osso e argilla, gli ornamenti d'oro e gli utensili. L'attacco dovette essere stato rapido, dato che chiaramente non vi fu il tempo di scappare. Dopo la devastazione, la superficie fu spianata, lasciando il posto a una nuova cultura. Quando i Kurgan si espansero a ovest in Europa, lasciarono altri tipi di tracce dei loro movimenti. Una delle più importanti è la tomba Kurgan, insieme con le tombe maschili con dentro scettri a testa di cavallo, archi, frecce, punte e stiletti. Quando i Kurgan invasero l'Europa, il cavallo divenne l'animale religioso per eccellenza, destinato ai sacrifici nelle occasioni più importanti, con parti di esso, in particolare la testa e le zampe anteriori, riposte nella sepoltura insieme al guerriero Kurgan. La presenza dei Kurgan sconvolse anche l'arte e la religione dell'Europa antica. La ceramica, altamente simbolica e tecnicamente sofisticata delle culture antiche europee, declinò rapidamente e in alcune aree scomparve, per essere sostituita da una ceramica più rozza, temperata con gusci di conchiglia e decorata con motivi solari. In molte aree i popoli indigeni rimasero. Gli artigiani dell'Europa antica conservarono le loro abilità anche dopo le razzie dei Kurgan. In alcune aree si continuarono a produrre i vasi a forma di uccello in onore della dea uccello. Indubbiamente questi popoli conservavano le loro credenze e le loro tradizioni artistiche, ma la loro creatività espressiva declinò inesorabilmente. Nella religione e nell'arte le loro credenze e i simboli divennero un'attività carsica, sotterranea, un substrato rispetto a un nuovo sistema simbolico che si stava imponendo. Chiaramente i simboli Kurgan del cielo, del cavallo, delle armi erano i più diffusi, ma la credenza nella dea rimase. Le nuove culture che emersero furono un'amalgama con elementi della tradizione antico-europea che proseguivano all'interno delle tradizioni Kurgan dominanti. Con la comparsa dei Kurgan, la società europea iniziò a trasformarsi in una società gerarchica, divisa in classi con i coltivatori locali che formavano la classe inferiore e i capi guerrieri che rappresentavano la classe dominante, in un sistema che ricorda il feudalesimo medievale. Questa prima ondata dei Kurgan lasciò intatte alcune aree. In Germania, Polonia, Ungheria Nord-Orientale e in Slovacchia sopravvisse la vecchia cultura per altri 500 anni. In Ucraina e in Romania la cultura Cucuteni, la vecchia cultura matrifocale Moldava, proseguì il suo sviluppo. Tuttavia i Cucuteniani, a quanto pare, si resero conto del pericolo perché costruirono le loro città in luoghi meno accessibili e adottarono alcune misure difensive. Le tradizioni antico-europee rimasero forti in Grecia e in particolare nelle isole dell'Egeo, dove più di 2000 anni dopo sarebbe fiorita la cultura minoica. La seconda ondata. Dopo questo periodo, attorno al 4000 a.C., in Europa si attesta un momento di stabilità. Le culture antico-europee, ora kurganizzate a vari livelli, proseguirono la loro evoluzione. Questo non significò che l'influenza kurgan in Europa fosse terminata. Le tribù nomadi, da est, si sarebbero mosse verso l'Europa per altri 1500 anni. Una delle culture che erano sopravvissute alla prima ondata dell'espansione kurgan, come abbiamo detto, era la Cucuteni, che si trovava proprio al confine tra Romania, Moldavia e Ucraina sulla sponda del Mar Nero. Come esempio di cultura antica europea, che sopravvisse intatta per più di 800 anni rispetto alle sue controparti occidentali, la cultura cucuteni dimostra il corso che la preistoria europea avrebbe potuto prendere se l'Europa non fosse stata invasa dalle culture kurgan orientali. Intorno al 4000-3500 a.C. i cucuteniani avevano raggiunto notevoli risultati nell'arte e nell'architettura, sviluppando il proprio stile di decorazione della ceramica, costruendo vere e proprie città per popolazioni che raggiungevano anche le 5000-10000 unità e costruendo templi a due piani. La prima ondata delle invasioni kurgan ebbe un solo effetto osservabile nelle città cucuteni. Molte di esse furono spostate su posizioni più difensive, su colline o sugli argini dei fiumi. Ma a parte questo la cultura cucuteni rimase intatta. Intorno al 3500 a.C. la cultura cucuteni fu distrutta. Le grandi città furono abbandonate e a quel punto comparvero le sepolture kurgan insieme con i loro piccoli insediamenti di case semisotterrane collocate sulla cima delle alture. Come era accaduto in Europa centrale dopo la prima ondata kurgan si formò una nuova cultura contenente elementi di quella cucuteniana ma dominata dai nuovi arrivati kurgan. Gli invasori non si fermarono sul territorio cucuteniano ma proseguirono verso ovest e lungo l'Ucraina occidentale passarono a nord dei carpazzi e giunsero in Polonia e in Germania. Le nuove culture che si formarono in seguito a questa nuova espansione occuparono gran parte dell'Europa sud orientale, centrale e settentrionale dalla Romania e dalla Bulgaria a est alla Svizzera a ovest, dalla Germania e dalla Polonia a nord alla Grecia a sud. Molti nuovi siti furono fortificati, costruiti sulla cima di colline in posti quasi inaccessibili. Ciò indica la dedizione dei kurgan per la guerra. Il sito collinare fortificato era la sede dei capi reggenti e il centro delle attività culturali come l'artigianato. Il resto del popolo viveva nella zona circostante. In alcune aree dell'Europa il castro era circondato da villaggi di coltivatori, probabilmente i discendenti degli antichi europei che proseguivano con il loro vecchio stile di vita agricolo. La seconda ondata kurgan trasmise il carro a quattro ruote e l'aratro tirato da una pariglia di buoi. Le tombe dell'élite contenevano case mortuarie sormontate da cupole di pietra sorrette da pareti a loro volta coperte da tumuli di terra. Le incisioni sulle pareti delle tombe ritraggono guerrieri, archi, faretre piene di frecce, cavalli e cani. In questa parte dell'Europa il processo di assimilazione dura molto tempo. La cultura locale non fu assorbita immediatamente. In questa simbiosi ci sono le radici della famiglia indoeuropea settentrionale da cui più tardi si sarebbero evolute le lingue e le culture celtiche, italiche, germaniche, baltiche e slave. Nella religione e nella mitologia kurgan il cielo era il luogo in cui dimoravano gli eroi e le divinità e il dio supremo era il dio del cielo splendente. Il colore del sole, oro o giallo, aveva una grande importanza simbolica. Le figure solari, circoli, cerchi con linee radiali come raggi del sole, croci eccetera, sono i disegni più comuni sulla ceramica e su dischi di ambra o di osso. Per le culture indoeuropee l'oro avrebbe rappresentato l'oggetto dei desideri per antonomasia fino all'ossessione tanto nella preistoria quanto in epoca classica come attestato dalle leggende del vello d'oro e degli argonauti e certamente nell'età moderna. Ma l'oro non era il materiale più accessibile per riprodurre la luce del sole. Quello che utilizzarono invece fu ciò di cui potevano disporre in abbondanza sulle coste del mar baltico. Qui le resine di antichi alberi si erano fossilizzate fino a diventare ambra affiorando sulle rive. Questa sostanza dura e semitrasparente nella quale talvolta si poteva intravedere qualche rametto o qualche insetto incorporava il colore del sole ed esercitava gran fascino su questi popoli kurganizzati e si raccoglievano e lavoravano l'ambra in dischi, grani cilindrici o altri gioielli e i pezzi più belli li riponevano nelle tombe insieme ai capi. Le infiltrazioni della seconda ondata kurgan non eliminarono solo la gran parte delle culture e delle nicchie dell'Europa antica che erano sopravvissute alla prima ondata. Essa estese il raggio di influenza dei kurgan lungo l'Europa in particolare fino al mare del nord e alla costa atlantica raggiungendo l'Irlanda attorno al 3500 a.C. La seconda ondata kurgan portò anche con sé un progresso tecnologico che ebbe un tremendo impatto sul corso della preistoria europea, la metallurgia del bronzo, abbastanza duro per forgiare strumenti o armi. Così iniziò l'età del bronzo in Europa. Tuttavia si crearono solo pochi oggetti o armi in bronzo e la maggior parte degli oggetti e delle armi continuò a essere fatta con i mezzi tradizionali osso, palco di corna, pietra, selce e legno. In maniera significativa la lavorazione del bronzo ebbe luogo all'interno dei confini dei castri dove furono trovati gli stampi usati per colare armi. La manifattura di armi e strumenti in bronzo era tenuta in alta considerazione dai sovrani. La terza ondata kurgan. La terza ondata delle migrazioni kurgan iniziò poco dopo il 3000 avanti cristo. Come i precedenti popoli delle steppe i kurgan della terza ondata lasciarono pochi siti di abitazione a motivo della loro esistenza mobile e pastorale. Per contro li conosciamo soprattutto per i loro monumenti funebri ovvero nella tradizione kurga le sepolture di singoli maschi come tombe principali. Le fosse che contenevano una casa mortuaria costruita con pali di legno e con travi orizzontali sulle quali si disponevano tumuli di terra tondeggianti. Sembrerebbe che le versioni della terza ondata kurgan siano state ancora più intense di quelle precedenti ed ebbero un serio impatto sulla configurazione etnica dell'Europa. Non solo singoli kurgan ma interi cimiteri di 15-20 kurgan sistemati in file o gruppi compaiono ora in aree distanti come la Russia centrale e la Bulgaria. La terza ondata diede l'avvio a spostamenti di popolazione quando le culture dell'Europa orientale e centrale già kurganizzate come esito delle prime due ondate si mossero dalle loro dimore verso nuove aree in Europa settentrionale, nella Scandinavia meridionale, nell'area baltica orientale e nella Russia centrale. Attorno al 2000 a.C. il mondo dell'antica Europa era stato trasformato a eccezione dei gruppi antico europei di Creta, delle isole dell'Egeo e della penisola iberica. Concludiamo la lettura di questi brani estratti da kurgan di Maria Gimbutas con una nota linguistica per noi molto importante riguarda la terminologia della tessitura. Poche parole erano originariamente indoeuropee, mentre la maggior parte erano non indoeuropee. I termini indoeuropei riguardano solo ciò che si usa nella tessitura, nel telaio più piccolo e più primitivo, il telaio a banda. Ma le parole usate per i telai più avanzati e per la tecnologia della tessitura, come punto di cucitura, pesi di telaio, passo d'ordito, liccio e trama, furono presi in prestito dagli abitanti indigeni pre-indo-europei della Grecia. Questo suggerisce chiaramente che gli antichi europei possedevano una conoscenza avanzata della tessitura, un fatto confermato dall'archeologia. I parlanti indoeuropeo erano primitivi da questo punto di vista. Quando si insediarono in Grecia, gli indoeuropei adottarono la tecnologia della tessitura dai popoli indigeni. Con questo omaggio alla dea tessitrice, un aspetto della grande madre che ci accompagna ancora oggi, concludiamo la lettura di questi estratti da kurgan di Maria Gimbutas. Grazie! 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 Grazie a tutti